Allora ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla Qua dietro c'è nascosto qualcosa Non vi indico ancora cosa è nascosto dietro a quella cosa strana Vediamo se qualcuno di voi riuscirà a scoprirlo qua sotto nei commenti Detto questo iniziamo subito questo episodio della vanilla Ok ragazzi eccoci qui Ci ritroviamo sotto il magazzino Cioè in realtà siamo dentro il magazzino Comunque sotto casa nostra dentro il magazzino Perché devo sistemare naturalmente il mio inventario Quindi possiamo tutta la roba che non ci serve Come il grano, il light grey, il quarzo Altro quarzo, altra dirt, la redstone Questi due dispenser Questo notiblock che l'ho craftato per fare una cosa Ma la faremo poi in futuro nei prossimi episodi E basta abbiamo finito Ok ragazzi allora cosa andremo a fare oggi Bene oggi andremo a fare due cose importanti La prima è andare a dormire La seconda sarà parlare dei nuovi progetti del 2019 della vanilla Perché voglio tenervi aggiornati su tutte le cose che ho in mente Comprese le pazzie Come ad esempio la possibilità di un nuovo speed build Però non nei prossimi episodi Penso fra qualche settimana Non sarà una cosa che faremo subito Però ho in mente di fare una struttura veramente bellissima Per questo qui non voglio spoilerarvela ragazzi Però voglio già iniziare a dirvi appunto un paio di idee La prima idea era quella di iniziare a sviluppare tutta la zona orientale Quindi già la zona giapponese E già questo qui penso lo andremo a fare dal prossimo episodio Voglio andare a costruire appunto qui diverse strutture giapponesi Fare qua anche un ponticello Visto che qua c'è anche il bellissimo polpo chef Che purtroppo E dico purtroppo Non ha più al suo interno I lonigiri Perché naturalmente L'onigiri l'abbiamo fatto Prima del Lo sapete Ecco non è inutile che ve lo vada a dire Perché ogni volta che ci penso Mi piange tantissimo il cuoricino Comunque mi sa che oggi adesso lo andremo a rifare Già che ci siamo E comunque cosa stavo pensando di fare Beh Ho diversi i progetti in mente Alcuni sono anche particolari Come costruire una farm di slime Però con una struttura particolare E molto carina Tutta la zona giapponese Di per sé Voglio iniziare intanto a fare la zona vecchia E poi fare la zona nuova E soprattutto Vorrei che Aia Oddio Cosa? Stavo per morire così? Che ci fa questo maialino qua dentro? Comunque What? Mi sono fatto malissimo ragazzi Veramente Della zona giapponese nuova Vorrei iniziare a fare invece qualcosa Consigliato da voi O quantomeno Scegliere una tematica Perché come detto Nella zona giapponese nuova Noi andremo a fare Roba che Generente Videogiochi Anime Manga Eccetera eccetera Di conseguenza Qua sotto nei commenti Iniziate a scrivermi Dei consigli Come può essere appunto Già una tematica O addirittura Un titolo di un anime O un videogioco Quello più scelto da voi Quello più votato Quello più richiesto Lo andremo poi a fare Ok Ho preso i blocchi necessari Per fare L'onikiri All'interno di Polpochef E comunque Visto che già siamo un attimo In zona Volevo fare la farm Degli slime Più o meno In questo punto Più o meno Vicino alla farm Di ferro Soprattutto Farm di ferro Come sta andando Perché da un bel poco Di bisogno Che non andiamo a controllare Ultimamente Sembra che stia farmando Veramente pochissimo Non so Per quale motivo Non so Se si è rotto o meno Con l'aggiornamento E quindi Boh Dobbiamo mi sa Aspettare Non lo so Ad essere sincero ragazzi Come vedete Oddio Beh Non è male Non è male Però il ferro Comunque lo andiamo a lasciare lì Dove sono finite Le mie cesoie Saranno qua dentro Eccole qui Purtroppo sono mezzerotte Cioè Si stanno quasi Del tutto rompendo Quindi Dobbiamo anche iniziare A farmare un po' Di esperienza E cosa C'è di meglio Se non Ammazzare un altro Ender Dragon Però Ci sarebbe sempre Una sfida Quindi Qua sotto ragazzi Nei commenti Scrivete le vostre sfide Per uccidere il prossimo Ender Dragon Parlando di Ender Dragon Beh Raga Come sapete C'è il memino Del fatto che ancora hanno fatto Una nether hub Bene Arriverà la nether hub E stai dicendo Ma cosa c'entra con l'ender dragon Beh Se faccio la nether hub Dovrò fare anche l'end hub Quindi l'hub del land Quindi si Inizieremo a fare queste cose Finalmente Dopo un sacco di tempo Dopo tipo 3000 episodi Andremo a fare qualcosa di carino Anche nelle altre dimensioni Quindi allora L'onigiri Come cacchio era fatto Allora Era più di tutto Una piramide All'incirca così Proprio bisognava rendere La cicciottella E così Non lo è Perché poi va a chiudersi Verso il basso Giusto Quindi essere così Così in questo modo Allora Era una roba più o meno In questo modo Però fa veramente schifo Infatti Voglio farla Molto più grossa Mi sa Quindi Pompiamo subito Il nostro bellissimo Onigiri Perfetto Dovrebbe essere più o meno Simile a come quello Quello che avevamo fatto Io ed Eren Circa Più o meno ragazzi Purtroppo Ne crea queste cose Non sono tanto bravo Comunque Fatto adesso Qui L'onigiri Continuiamo a parlare adesso Di altra roba nuova Quindi Tante robe spicy Per questo 2019 Per questa serie Nell'ultimo episodio Avete visto che mi ha dato Tearless Per iniziare a creare Diciamo i vari personaggi Anzi i vari spicy boys Dietro alla scritta Spicy wood Bene Voglio sapere adesso da voi Chi sarà il prossimo Spicy boy A entrare nella vanilla Naturalmente Eren sarà l'ultimo Già ve lo dico Quindi non mi scrivete a Eren Perché sarà l'ultimo Potete scegliere appunto Fra Tech Tano Dlartz Fede E per ora basta Non so se fare anche Tipo Tizio O Diego Non lo so Se fare anche mastro Fatemelo sapere anche Qua sotto nei commenti Ok bene Possiamo rimettere tutto A smistare Opla E ragazzi Nei prossimi episodi Andremo a fare anche Un nuovo utensile Cioè È un nuovo utensile Che già esiste su Minecraft Già l'abbiamo fatto un sacco di volte Ma è nuovo Perché lo andremo a craftare completamente Ed è già quasi notte di nuovo Ma Young Tu come stai? Come hai passato quest'anno? Ce l'hai passato sempre chiuso qua dentro? Mi sai sì E vabbè ragazzi E vabbè Volevo adesso prendere della cobblestone Perché comunque Non posso sempre dirvi Dai facciamo questo Facciamo l'altro Senza mostrarvi più o meno Diciamo una specie di mini progetto E quindi oggi Vi faccio anche vedere Più o meno come voglio andare a sistemare Le varie strutture Naturalmente sempre più o meno Ok Perché come sapete Io faccio una cosa E poi dopo un episodio Faccio completamente un'altra cosa Ci posso fare S'ho fatto così Allora parlo nella zona giapponese Ok Qua c'è la casettina Andremo a fare Un'altra casettina qui Quindi proprio qua Mi faccio velocemente il perimetro Per farvi più o meno capire Ok Più o meno questo qui sarà il perimetro Se state già pensando Ma è me Che cavolo di episodi stai facendo Ragazzi Non lo so neanche No scherzo So cosa sto facendo E soprattutto Ci tengo molto a mostrarvi queste cose Perché dal primo episodio della serie Vi ho sempre detto Che queste serie Sì La faccio io Ma in realtà la stiamo facendo Sempre insieme Perché voglio Sempre ascoltare E seguire i vostri consigli E quindi se non vi faccio Ogni tanto Un episodio così Di aggiornamento Diciamo che non possiamo andare avanti Con questa idea Di fare la serie insieme E ho piazzato un blocco Così per sbaglio Quindi qua ci sarà la casetta Qua faremo Vabbè naturalmente Un piccolo passaggio Qua naturalmente poi ci sarà Il ponte Quindi Già ho fatto Vabbè la striscia per il ponte Ma comunque Lasciamo stare Qua andremo a fare Poi il tavolino Con tutto il sushi Sopra Mentre passiamo adesso invece Alle strutture Un pochino più grandicelle Volevo fare proprio qua dietro Più o meno Già partendo da qui Quindi da qua Facciamo tutto bello Un mega perimetro Pegola ciao Vattene via Più o meno Con questa dimensione Una piccola pagoda Perché dobbiamo farla Per forza Ragazzi Cioè se no che Zona giapponese Senza Una piccola pagoda Soprattutto Volevo fare anche Un piccolo tempietto Quindi non so se qui farò la E' mai pagoda o pagoda Che me lo chiedo sempre Me lo scordo sempre poi Come qui faremo Penso la pagoda Mentre Ancora più indietro Qua ci sarà Diciamo un giardinetto zen Quindi già Aspettate qui un giardinetto zen Perché c'è appunto Un laghettino Andremo a fare Poi qua Proprio in questo punto Il tempio Che c'è molto più spazio Quindi Possiamo diciamo Sfruttare al meglio Questa zona E si Più o meno sarà Diciamo Boh Un 15 per 15 Un 16 per 16 All'incirca E guardate come Ho già finito I blocchi in cobblestone Insomma Avete già più o meno Capito tutto quanto Emerald Fai un poco di ordine Perfetto Ma giusto ragazzi Ora che ci penso È da un sacco di tempo Che non scriviamo Il nostro diario di bordo C'è È da Troppi episodi Quindi probabilmente Non scriverò mai nulla Ma quantomeno Qualcosina di nuovo Qualche progettino Dobbiamo andarlo a scrivere Mi sembra più che giusto E bisogna per forza farlo Quindi Entriamo dentro La nostra bellissima Cabina E Ma Raga Il nostro diario di bordo È scomparso Dove è finito? Ragazzi Qualcuno Si è rubato Il nostro diario di bordo E questo qui È oltraggioso Sento ancora La scrivania vibrare E la mano Che sta iniziando A farmi malissimo No ragazzi Dobbiamo trovarlo Ma Che cacchio Se l'è preso Cioè È scomparso Così Scusate Fatemi vedere una cosa Vediamo se è scomparso Qualcos'altro No Qua ci sono tutte le varie cose Ok Per adesso Non è scomparso nulla Ma C'è ancora qua dentro La fire charge Da sparare No Sono scomparso Forse l'abbiamo finita Vabbè Raga Ci sono rimasto malissimo Dov'è finito? Non lo so Per me O c'è lo zampino di doc Oppure Se è bugato qualcosa Secondo me ragazzi Che è successo? Ma ve lo chiedo a voi Perché Mi ha un pochino Destabilizzato Questa cosa Ma comunque Stiamo nella zona Piratesca Anzi Futura zona Piratesca E inizieremo a fare A breve Tutto il borgo Nella zona piratesca Quindi preparatevi Ad altri galeoni Altre strutture Anche sottomarine Tipo una sarà là sotto E per il borgo Piratesco Volevo Incentrare tutto Sopra questa isoletta Qua Poi fare un bel porto Naturalmente E Là sotto invece Non so cosa fare Se fare anche Diciamo Una specie di Zona Per i pirati Proprio Dei pirati Veri e propri Cioè noi andremo a fare Nella specie di Nassau Diciamo Però dobbiamo fare Il rifugio dei pirati Però io adesso ragazzi C'ho in mente Il fatto Che è finito Il mio diario di bordo Boh Vabbè Ragazzi In questo episodio Non ho fatto Letteralmente nulla Ma è stato però Un episodio Dove vi ho aggiornato Un pochino su tutto E sul fatto che Scomparse di bordo Mannaggia Comunque ragazzi Vi ricordo come se Mi scrive qua sotto Nei commenti Tutte le vostre idee Tutti i vostri consigli Soprattutto su quello che vi ho chiesto oggi E detto questo ragazzi Il vostro capitano vi saluta Ciao a tutti